buongiorno a tutti oggi ripetiamo insieme uno dei poeti più importanti del novecento italiano anche in vista della preparazione per l'esame di stato giuseppe ungaretti giuseppe ungaretti nasce ad alessandria d'egitto nel 1888 da genitori lucchese padre però muore quando ha solo i due anni studia in una scuola francese dove legge apprezza baudelaire nel 1912 è a parigi dove conosce a polinaire i futuristi e pittori come pablo picasso nel 1915 pubblica le prime poesie sulla rivista la cerba poi si arruola come soldato semplice sul carso durante la prima guerra mondiale sarà il tenente ettore serra a pubblicare con il titolo il porto sepolto il primo volume di poesie nel 1916 dopo la guerra a parigi dove lavora come corrispondente del popolo d'italia il giornale di benito bussolini nel 1921 si trasferisce a roma e aderisce al fascismo nel 1919 aveva pubblicato allegria di naufragli che poi confluirà nell'allegria del 1931 tra il 1920 e il 36 svolge l'attività di giornalista e viaggia molto ha una crisi religiosa durante tutti gli anni venti che lo accosta al cattolicesimo frutto di questa conversione sarà la seconda raccolta sentimento del tempo nel 1933 a 1936 accetta la catena di lingua e letteratura italiana a san paolo in brasile nel 37 la prima tragedia familiare muore il fratello e nel 39 il figlio antonietto di soli nove anni nel 1942 torna in italia e viene nominato accademico d'italia ottenendo la carta di letteratura italiana a roma quando roma è liberata molti chiedono la revoca della cattedra ma vince il processo e riesce a mantenere nel 1947 pubblica il dolore il dopoguerra diviene molto popolare per la lettura dei capolavori della letteratura italiana in radio nel 69 mondadori pubblica la raccolta di tutte le sue opere vita d'un uomo muore nel 1970 vediamo la poetica di ungaretti la poesia di un garetti è una poesia sostanzialmente autobiografica la prima raccolta parla sono poesie scritte al fronte l'elemento fondamentale della sua poetica è la parola che significa una ricerca proprio dell'essenzialità di un linguaggio che sia espressivo senza una sintassi molto articolata anzi una sintassi ridotta al minimo infatti le innovazioni della poesia ungaretti sono proprio la brevità della poesia la semplificazione della sintassi l'eliminazione della punteggiatura e l'uso del verso libero è anche vero che però negli anni venti nel generale ritorno all'ordine voluto dal fascismo la sua poesia si fa più distesa e più aderente alla tradizione letteraria italiana quindi recupera le necasillabo una sintassi più complessa la punteggiatura e si rifà soprattutto ai poeti stranieri dell'età barocca quali shakespeare utilizza la tecnica dell'analogia ma anche se la sintassi più distesa non vuol dire che la poesia sia sempre chiara anzi anche la poesia successiva quella di sentimento del tempo per intenderci può essere fatta a diverse oscure con immagini difficili da comprendere quindi abbiamo un'evoluzione nella poetica di un garetti da un iniziale sperimentalismo a un ritorno all'ordine che però non esclude una poesia allo stesso modo difficile vediamo adesso le opere l'allegria e l'allegria confluiscono la prima raccolta il porto sepolto nel 1916 e allegria di naufragio nel 1919 viene quindi pubblicata nel 1931 e poi in edizione definitiva nel 1942 le sezioni dell'edizione definitiva sono cinque in ordine cronologico ultime il porto sepolto naufragio girovago e prime è una sorta di diario autobiografico del poeta che cos'è il naufragio questo simbolo del naufragio che predomina nell'allegria il naufragio è quello della civiltà europea molte poesie sono state scritte in guerra quindi riguarda proprio il periodo della guerra ma anche della singola esistenza umana quindi questo parallelismo tra il naufragio collettivo e quello individuale e quindi perché questo tiro l'allegria perché l'allegria è quell'attimo di felicità sottratto allo scorre inesorabile del tempo di un tempo oscuro come quello in cui il poeta vive quindi la poesia è anche una sorta di rifugio dalla storia le poesie soprattutto quelle delle tre sezioni centrali porto sepolto naufragio girogo sono scritte al fronte e recono l'indicazione del luogo e della data di scrittura scritte per lo più su mezzi di fortuna risente questa poesia dei simbolisti di apollinaire che aveva conosciuto a parigi e anche insomma dell'idea decadentista e simbolista che il poeta è un veggente quindi possa vedere cose che gli altri non vedono per quanto riguarda lo stile come abbiamo detto per la poetica inizialmente lo stile di un garetti è fatto da versi molto brevi con senza punteggiatura è un linguaggio essenziale che tende ad isolare la parola e quindi a riempirla di un significato premio denso tra le poesie più importanti e l'allegria sono veramente tante ricordiamo il porto sepolto e parte appunto da questa scoperta di un porto sommerso d'alessandria d'egitto risalente un periodo misterioso non noto della della città e questo con questa scoperta di questo porto viene presa come viene usata come metafora dal poeta che dice la poesia è una discesa nelle profondità dell'animo umano da cui si riportano alla luce solo dei frammenti quindi poesia come in discesa nell'abisso dell'animo umano ma quello che si può riportare da questa discesa sono solo dei frammenti non una verità assoluta altra poesia molto belle ai fiumi che una sorta di ritratto come lo stesso garetti dirà della della sua vita dalla nascita fino alla guerra il poeta infatti durante una fase nella guerra fa il bagno nel fiume isonzo e questo bagno purificatore gli ricorda i tre fiumi della sua vita il cerchio in quanto lucchese di origine il nilo in quanto cresciuto nato e cresciuto all'estandria d'egitto e la senna per il suo soggiorno parigino questa poesia una struttura circolare richiamando i due termini anch'essi circolari il circo e la corolla e il bagno oltre che è un valore simbolico di purificazione anche un valore di ricerca dell'armonia dell'uomo con la natura quell'armonia che tanti poeti del novecento riterranno persa non solo poeti autori generale poi ricordiamo mattina famosissima mattina mi illumino d'immenso ma così veramente breve proprio simbolo della poetica della parola però c'è da dire che anche il titolo fa parte della poesia infatti esprime proprio la sensazione di splendido di di pienezza no dello splendore sorto del sole sorto da poco è tutta basata su questa dialettica strato concreto ed è una sinestesia mi illumino d'immenso quindi sensazione visiva e spaziale poi ricordiamo viglia altra poesia veramente bella che parla dell'esperienza di guerra vicino a un morto la vicinanza della morte provoca nel poeta amore per la vita san martino del carso sempre nel 1916 in cui il poeta vede un paese devastato dalla guerra e fa questo parallelismo tra il paese devastato dalla guerra e il suo cuore che il paese più straziato no quindi questa analogia tra cuore e paese e riflettendo sulle persone care morte in guerra e con questa bellissima corrispondenza tra il paesaggio interiore e quello esteriore altra poesia famosissima soldati si sta come l'autunno sugli alberi le foglie altra poesia molto breve del 1918 e analogia tra la precarietà dei soldati e le foglie in autunno in realtà questa della della precarietà umana paragonata alle foglie che cadono è un'immagine molto antica classica ripresa da da dante ma anche da virgilio dall'inferno di dante per esempio e in generale la poesia vuole esprimere non soltanto la precarietà dei soldati ma la precarietà dell'esistenza sentimento del tempo la raccolta nel 1933 e risente dell'esperienza virgiosa e la conversione al cattolicesimo di ungaretti si percepisce una tensione verso il divino in contrasto con la sofferenza umana ungaretti come abbiamo detto recupera a un certo punto la medica tradizionale quindi nei casili e dei settenari una sintassi più ampia con l'uso della punteggiatura è evidente richiamo poeti come leopardi e a quelli del barocco europeo shakespeare gongora amplifica il concetto di corrispondenze dei simbolisti con il ricorso alla tecnica dell'analogia che cos'è una tecnica che connette parole dal significato diverso anche grazie a questa tecnica il significato delle poesie di sentimento del tempo non è sempre chiaro cristallino anzi a volte diviene più oscuro e misterioso il dolore la raccolta nel 1947 il dolore sta a simboleggiare sicuramente quello della seconda guerra mondiale quindi un dolore collettivo ma anche quello delle perdite private del poeta quindi il fratello nel 1937 il figlio antonietto nel 1939 è una poesia che però a differenza di quella precedente alle caratteristiche di una poesia civile pur rifiutando i toni di poeta abate ma rivendicando alla poesia una funzione pubblica una funzione civile molto vicina infatti alle esperienze che dopo la seconda guerra mondiale hanno fatto anche montale e quasimodo ricordiamo tra le varie poesie del dolore non gridate più che prende spunto dal bombardamento di un cimitero romano del verano nel 1943 in cui il poeta chiede non cessate di uccidere i morti non uccideremo lasciate riposare con il silenzio ed è metafora insomma della guerra che non si ferma neanche dinanzi alla morte neanche dinanzi ai morti ricordi i miei contatti il sito didattica innovativa punto com la pagina facebook didattica innovativa per freddo nel canale youtube didattica innovativa vediamo alla prossima lezione grazie a tutti grazie a tutti